L'uomo accetta le regole e i doveri imposti dalla società civile in cambio dei diritti di libertà, giustizia e sicurezza. Questa è una regola fondante della civiltà, conquistata in millenni di studi e confronti, ma anche di guerre e contrapposizioni. E da questo punto si è partiti per aprire un dibattito con i giovani, svoltosi presso il Dipartimento Ionico della Facoltà di Giurisprudenza. In particolare si è parlato, a cura di alti ufficiali del Comando Generale della Guardia di Finanza di Roma, di contraffazione e di tutela della sicurezza del gioco. Due settori nei quali è sempre in agguato la criminalità organizzata, attenta e capace di fiutare il business e cavalcarlo illecitamente. Centrale la relazione del Rettore dell'Università, Professor Antonio Uricchio. Ascoltiamolo. Discutere di legalità e guardare anche alle fasce più deboli della nostra società, in particolar modo ai giovani che sono esposti ai tanti rischi che caratterizzano questa fase non sempre facile della nostra vita.